Una chiave differente per presentare l'Odissea ai ragazzi. Venerdì presenterai assieme all'autrice Cristina Dell'Acqua il libro Il Nodo Magico. Perché? Esattamente questo. È una chiave un po' diversa di presentare il testo dell'Odissea, un'iniziativa dedicata agli studenti dell'Iceo Classico Lorenzo Costa, un'iniziativa pensata per approfondire con una chiave di lettura che si focalizza sul ruolo femminile all'interno dell'opera. Un testo molto prezioso, quello di Cristina Dell'Acqua, perché si dedica a mettere in evidenza un punto di vista differente. Lo facciamo davanti agli studenti del liceo con la consapevolezza e la necessità anche di cercare con loro una strada e un punto d'incontro. Veniamo da anni difficili tra pandemie e guerre e lasciare un messaggio di questo tipo agli studenti può essere una cosa preziosa. Questo è un po' il significato dell'iniziativa. Forse al giorno d'oggi abbiamo un po' perso l'abitudine a scandagliare, a scoprire il prossimo. Ecco, questo può essere un momento per riscoprire questi legami. All'interno di questo saggio c'è questo messaggio, è il valore che hanno i legami, la ricerca di quella che è la complessità di confrontarsi con altro da sé e di ricercare quello che è il buono e il bello con chi ci si confronta. Si utilizza ovviamente Ulisse all'interno di questo viaggio e si valorizza quello che è il suo cammino in una prospettiva antropologica, cioè il valore di quello che è lo scambio culturale e di quello che può essere la capacità dell'uomo di creare legami che non sono una diminuzione ma sono un elemento che valorizza il proprio percorso di vita. Quindi un messaggio ancora attuale, ricordiamo dove e quando? Domani alle ore 11.30 presso la Mediateca Regionale Ligure Sergio Fregoso.